No, ma non è, anzi, no, no, ma problemi loro che l'hanno messo qui, gli imbecini. Scusate ragazzi, perdonatemi un secondo, che mettono queste piante qua e là, cioè sono inascettabili, la bocca mi va bene, si sono levata due piante, se poi un'altra, ok, stia pronto? Sì, però se devi vedere, mettete un po' più di qui, eh, di nuovo là, io sono incapace, ma gente come noi, è da non mollare, no, non molla mai, non molla mai, no. Eh, ma non l'ha già, eh, petti, petti, petti. Eh, non lo so, ma c'è, po' più. O Shifu, oh! Ma sai, con importante aspeto, mi giro la sua gita, si, si. Che dopo, ma c'ha acqua, qualche b con le mani non riesco la tavola 25 minimo 25 2 4 lo preghiamo 1 3 5 è difficile 2 io non ho solo così io la giusta 1 di fronte lo facciamo 25 4 1 3 5 se ci fosse l'altezza lo farei 5 6 9 11 13 15 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo non la distruggi 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 6 8 2 2 5 3 5 6 9 21 21 21 21 21 Ci siamo ragazzi, ci siamo, ci siamo 25 kg di piedi pensi di farcela? 25 kg di piedi lo facciamo Sono un cazzato reso Ma non te la viaggi? No, io in zucca Sono un cazzato reso Ma te segui anche palestra, cose? Tutto a corpo libero Ah fai tutto a corpo libero Tutto a corpo libero Comunque non vale, cioè non vale basta Tutto a corpo libero Ha visto le mani regelle là? Sì, è quella, è la silvetta È così, avete visto ragazzi? Tutto quello che ho comandato è così È la silvetta Avete visto? Cristo di Dio Ok, più, 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 più Fai salire, dai 25 di piedi, semplici Di piedi lo secco Di piedi? Sì, fa pure di piedi Ok Bisogna essere completi Oh, mazza Guarda che tocchetto Lo smacca tutto, dai E ho capito che ho sti pantaloni Non ci via avanti 25 scambi Quindi non deve essere Aspetta, vediamolo fare Oh Mi mette sti pantaloni Anche il tuo pantalone americano Che ci ha portato Ma sì In Italia non c'è questo pantalone No, non c'è questo Qualità di pantalone Forse il pantalone americano Grosso, grosso Così Sono proprio belli Dai, dai, dai Dai, dai Ragazzi, dai Oh Mi fai incazzare 25 scambi Sono casa per far Sono tanti, eh Comunque Non so, pochi Due Tre Quattro Non è vero Stavo tipo a sedere Ma mazza Chi è scatenato Ma che è giocato Non è vero Ma te lo risponde Aspetta No, non te lo risponde Ma è vero Ma che fa È matto Pazzero Dove è andato Oh, grimo, no Dai, grimo, dai Dai, no Oh Sì, questo posto Però canta a pezzi, eh Eh, stavolta abbiamo salvato solo una cosa Pianto che sta sui capi del coso Eh, tu falleggi un attimo C'è bene Sì Rialzo la pianta Attento al modo di capi Non ho capito Faccio un po' d'aria Perché Baccia lo scopato No, ragazzi I pantaloni non li può levare C'è perto Può provare le varie No, ragazzi Io allevo i pantaloni No, c'era veramente Per motivi proprio No Cioè L'ho già visto, Dario Che l'ha fatto C'è molto che quello parla Facciamo Due Tre Quattro Cinque Ehi 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 Ricerchiamo, Silve Ricerchiamo Uno Due Tre Tutti e due i piedi L'eleganza La strana bellezza Io sono Di destra Non c'è Sì Sì Sono Di destra Non c'è destra Non c'è sinistra E' brava E famoli tranquilli Senza far cose strane Senza far cose strane Semplici Solo per fare Deve Deve In questo caso E Pannaggia Il facciato Non c'è I miei Cinque Sette Otto Tranquilo Non c'è qualche parte Ti piaci? Guarda Guarda Piace Che bello Vederlo Incredibile Elegante Undici Drodici Tantato Omicidio All'XLR Non è andato Sto Ferma Deci fermare La sua testa Oddio Ci Ebbene E' arrivato Troppo forte La sua testa La famosa pista Che stanno a cinque Riva Dai Sei Sette Otto Nove Dieci Undici Dodici Tredici 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 Quattordici Elegante, vabbè abbiamo fatti, 26, belli, un po' di freestyle dai, che non lo fai, un po' di roppe pazze, non mi riesce più niente in realtà, un tempo mi sei bloccato, non mi sembra le varie che scivolano. Ibra! Ibra il movit, qua sulla pelle, che bello questo! Non lo ho mai parato, non ho mai saputo metterla. No, l'ho mai metto così. Ha da blocchi proprio, un po sulla mascella sul corpo proprio tipo così che si va faceva passare dai ragazzi dai dai fivoli o carico eh non c'è più e qua so ah così la ferma ok si ma che ammazzata un braccio riesci un braccio è un po difficile magari potrebbe provare a fare una con le mani con i battiti dei mani e 50 euro orario lo frea bene tranquilla 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 ragazzi la passione non c'è orario non mi provo che guarda la passione non ha orario il problema adesso gli aerei un toc la palla dei buzz ci tocca i buzz ci tocca non fanno la palla il tocco così ci gioca tocco io gioca tocco ci gioca bravo ma questo è un allenamento c'è il berlo dire ma è stato divertito perché è una volta 15 di gioco devi alzare bravo ci stavresti imboccando e sta là a guardare eh ci stavresti imboccato eh non è un po' più fatica stare in casa giù in due oh e adesso guarda metti tu mi fa quando ci gioca di quanti tocchi devi fare ci fai cinque tocchi ok un tocco gioco un tocco subito tu quando mi passi la palla di quanti tocchi devi fare ok iniziamo ecco a me quattro tocco uno due tre quattro tre due uno due ah ah che c'è quattro ce lo stai attenti ma è difficile no si ce lo stai attenti è un lavoro reattività ho la testa griata e non è una uglietta ce le stai attenti c'è un fanno le riketane ok Sì. Due. Eh... Quando? Quando? Quando me lo passa? C'è ragione. Ok. Tre. 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 Quanto? Tre, tre, tre. Due. No. Due, due, due. Uno. Quanto? Svegli, svegli, svegli. È complicato. È complicato, sì. Luca, grazie bene. È complicato. Iniziamo con... Molto complicato. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Svegli attirato, scusa. Quattro. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Quattro. Tre. Due. Due. Sì. Due. Due. Svegli, svegli. Tre. Due. Due. Tre. Due. 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 È l'amazon. Mi sconcia. Uno. Due. Tre. Due. Quanto? 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 Due, 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 due! Sì! 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 A me fa sempre due! Fa più quattro! Cinque! No! Due! Non ti fai svegliare! Ok! Iniziamo! Tre! Uno! Due! Tre! Uno! Quattro! Due! Tre! Tre! Uno! Due! Cinque! Due! Quattro! Tre! Niente! Quanto? Senti! Fanno palleggi normale! 200 palleggi a vola! Così sì! 100 a testa! 200 palleggi a testa! 200 palleggi? 100 palleggi a testa! No! 100 e dopo te la devi passare devi fare 200! Ti piedi? Sì! Ok! No! No! Mentre palleggi la devi passare! Ok! No! Io... Io... Io fa 100 e ti passo da parte! Ah! 100 tesi vogliela passare! Sì! Te lo fai di sinistra! Non di desi! No! Fai la... Non di desi! È difficile! Ok! Come inizio da... A... A... Aereo! Ehm! Così così! Dammi a mettere i miei piedi! Che te frega! Così è più pesante! Stai contato? 50! Questo è un piedi debole eh! Sì! Ma è vero che sta fatto tutto di sinistro! Sì! 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 Ma è vero che sta fatto tutto di sinistro! Sì! Ma poi mi casca subito! Mi casca subito! Mi sentino una merda! 100! Sì! 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 No! Invece cambio! 30! 40! 50! Calma! Comunicato! Portare Fituto! Gatta? Treüyor fidgero.. Minua! ma non ti va 100! 100! La gente è come noi! Non mola mai! Risto, te quanto sei sudato? Ah si, si, perchè si sudare ragazzi si sudare ragazzi, si sudare 100 ragazzi! Ti credo che sta così, dopo 10 anni di sudare tutta sta roba Ah si, perchè si da sempre il massimo ragazzi perchè la gente è come noi Non mola mai 100 parlementi